Si sposta a Roma al Ministero del Lavoro alla protesta dei lavoratori ASU della Sicilia. Si spera in un'interlocuzione positiva con il sottosegretario del Lavoro Claudio Durigon perché si proceda alla stabilizzazione come è avvenuto per i lavoratori contrattisti. Nel frattempo ieri si è svolta a Palermo, al Dipartimento Regionale del Lavoro, una manifestazione degli ASU della Regione e tra questi una delegazione proveniente dai comuni di Capodorlando e San Marco d'Alunzio. L'esito del confronto non è stato positivo. Pretendiamo risposte chiare e concrete sul problema dei ritardi nei pagamenti e sull'avvio delle stabilizzazioni, hanno dichiarato Vito Sardo e Mario Mingrino, coordinatori regionali dell'ALE, UGL Sicilia. L'incontro di ieri è stato l'ennesima perdita di tempo, uno spreco di energie avvilente. È stato evidenziato inoltre che la Regione non ha ancora un sistema di gestione dei pagamenti e che vengono effettuati ancora a mano. È evidente che in tali condizioni pagare 8.000 indennità per tempo, hanno spiegato ancora Sardo e Mingrino, 5.000 degli ASU e 2.800 dei PIP è materialmente impossibile. Di seguito lo scoglio delle stabilizzazioni. La soluzione risiede all'Ars da tempo e ci aspettiamo che i parlamentari e il governo musumeci si mettono a lavorare di buona lena. È una questione di volontà politica perché le risorse ci sono. L'assunzione degli ASU infatti avverrebbe a saldi invariati, quindi senza nessun aggravio per il bilancio della Regione. Concluso il sit-in alla Regione, ora la protesta si sposta a Roma, convinti che il governo nazionale debba fare la propria parte.